Triduo a Santa Teresa d'Avila Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Concludiamo il triduo con le riflessioni sull'amicizia. O Santa Teresa di Gesù, che in terra hai tanto amato il tuo e nostro Dio, ed ora in cielo lo ami con amore più puro e più grande. Tu che hai sempre desiderato di vederlo amato da tutti gli uomini, ottieni ti preghiamo, anche per noi, la scintilla di questo santo amore. Fa che tutte le nostre opere siano sempre impiegate nel compiere la volontà di Dio, che merita di essere infinitamente ubbidito e amato. Ottienici queste grazie, tu che tanto puoi presso di Lui, affinché veniamo a goderlo con te, nella beata eternità del Paradiso. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel libro della vita di Santa Teresa d'Avila, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, troviamo un'affermazione molto interessante. L'infallibile risorsa di un'anima è trattare con gli amici di Dio, Sembra quasi di poterne dedure un criterio nella scelta e nella coltivazione delle amicizie, ma quante volte, invece, andiamo, come si suol dire, con gli zopi, per imparare a zopicare, anziché coi più santi, per sanarci anche noi. Odetta in termini spirituali, scegliamo come amici i più santi per farci santi insieme a loro e grazie a loro. Eppure, a ben pensarci, è il Vangelo stesso che ci presenta questo standard qualitativo dell'amicizia, laddove Gesù afferma, voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal padre l'ho fatto conoscere a voi. Siamo al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Giuda, il traditore, è già uscito. Rimangono gli undici fedelissimi e ricevono le coordinate per essere amici di Gesù, amico dell'amico. Ci si potrebbe chiedere, nel trattare con gli amici di Dio, come ci sprona a fare Santa Teresa, che cosa ne guadagniamo? La risposta la troviamo nelle parole di Cristo. Gli amici di Dio sanno quello che fa il padrone. Conoscono meglio di noi il modello da imitare. Possono forgiarci come veri alter Christus, cosa che già diventiamo in forza del santo battesimo, ed insieme si può percorrere un bellissimo tratto di strada verso la santità. Hanno acquistato una certa esperienza spirituale, umana, religiosa. Possono diventare per noi maestri e compagni di viaggio. Per chi è ancora indietro nelle vie dello spirito, ma vuole cominciare seriamente a praticare la virtù, il vantaggio è descrivibile, in termini di convenienza, una parola che non ha una connotazione negativa, ma va invece identificata, come una tensione verso il bene. Santa Teresa è di questa opinione. Infatti mette in guardia dallo strepito del demonio, che molto si adopera per impedire alle anime di avvicinarsi ai veri amici di Dio, onde trarne beneficio spirituale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Teresa d'Avila prega per noi.